C'è stata partita solamente nel primo set, è troppo forte a Dinamo Mosca o qualcosa non è andato da parte vostra? No, penso che troppi errori noi, soprattutto dopo aver perso il primo set in modo in cui abbiamo perso, perché abbiamo lottato veramente fino alla fine. Poi qualche errore fino agli ultimi momenti, quando era veramente più importante, sicuramente hanno portato nervoso dentro la squadra. Purtroppo non siamo riusciti a mettere la testa a posto e continuare a giocare come abbiamo giocato nel primo set. Dinamo ha approfittato e ha portato questa vittoria a casa. Avete subito tantissimo in ricezione, qualche difficoltà anche in regia. Sono segnali questo di un calo di tensione? Questa è una cosa che risponderà l'allenatore. Capitano gli errori, sono normali, non devono capitare che si ripetano. Noi ovviamente non avendo la lucidità e essendo stressate, nervose, senza un vero motivo, portava a che abbiamo più errori. Quindi io mi auguro che ci calmiamo un attimo e che riusciamo, anche se sbagliamo, a continuare a giocare. Come affrontare ora la gara di ritorno il prossimo 5 aprile? Tutto o niente, non c'è più niente da perdere, bisogna veramente mettercela tutta perché io penso che siamo più forti di Dinamo solo se giochiamo come sappiamo giocare. Oggi non era il nostro gioco. Il nome forse è Dinamo Mosca, ha messo un po' paura ai tuoi compagni? Non lo so, a me no assolutamente, non so cosa c'è dentro la testa delle altre, non posso sapere. Grazie. Grazie.